Siamo qui con il migliore in campo tra la partita tra Shaq, Patrick e i Bianchini che hanno cambiato nome. Il migliore in campo, come ho detto, è Giazzetta, autore di altri 7 gol dopo la scorsa partita che ne aveva fatti altri 7. 14 gol in questo campionato, solamente due partite giocate. Beh, che dite, l'alba di nuovo, fenomeno, ma lasciamo qui la parola in questa partita, parlate un po'. Non è stata difficile come la scorsa, però molto semplice. Vorrei dedicare questi 7 gol alla festeggiata di oggi. Proviamo la festeggiata di Costanzo, di oggi è suo compleanno, e uno a mia sorella. Vabbè, complimenti e in bocca al lupo da tutti i torni.